Ciao, sono Simone Brancozzi, dottore commercialista e da 30 anni, prima all'università e poi sul campo, al fianco di imprenditori, mi occupo di salute aziendale. Sono uno specialista nella diagnostica e quindi anche nella cura delle malattie aziendali. Bene, dovete sapere che 10 gennaio 2019 sono stati approvati i decreti delegati che hanno riformato tutta la materia in gestione della crisi. In particolare, a fine marzo, quindi attenzione, non fra 18 mesi, ma subito entrerà in vigore l'articolo 2086 del Codice Civile, secondo comma. Che cosa prevede questo articolo? Prevede che gli imprenditori organizzati in maniera collettiva, quindi le società, dovranno dotare la loro azienda di un adeguato sistema organizzativo, amministrativo e contabile, tale da permettere l'immediata individuazione delle crisi aziendali, la tempestiva rilevazione delle crisi, ma soprattutto rilevare immediatamente la perdita della condizione di continuità aziendale. Ora, questo vuol dire che se tu scopri che l'azienda è in crisi perché analizzi il bilancio, significa che la crisi c'è già. E questo dispositivo non è stato approvato, cioè se non è stato rispettato il 2086 Codice Civile, secondo comma. Perché rilevare la crisi dai dati di bilancio significa constatare che la crisi c'è già. Perché i dati dicono, guarda che l'azienda è in crisi. Il Codice prevede molto di più, cioè prevede che ci sia un assetto amministrativo, contabile e organizzativo che aiuti a far emergere immediatamente le potenziali cause di crisi e le potenziali cause di perdita della condizione aziendale. Quindi non devi misurare il bilancio perché sarebbe troppo tardi, quindi non sarebbe stato un comportamento prudente, non sarebbe stato un comportamento che il Codice poteva tutelare, poteva quindi contemplare. Devi misurare il futuro. A questo proposito, da studioso, ti dico che su 100 aziende dal nonno solo 4 arrivano al nipote. Ed il motivo non è nei bilanci solidi o nelle capacità degli imprenditori. Il motivo sta nella incapacità dell'azienda di evolversi. Questa capacità di evolversi dipende dalle scelte strategiche dell'azienda. Quindi per poter ottemperare al nuovo articolo 2086, secondo Coma, Coggi Civile, occorre misurare il futuro. Occorre misurare le scelte strategiche dell'azienda. L'unico strumento al mondo validato scientificamente che fa questa cosa è la balance scorecard di Kaplan & Norton. Quindi è l'unico strumento opponibile in tribunale. Quindi un domani, tu amministratore, tu revisore, se volessi dimostrare il fatto che la tua azienda era dotata di un'adeguata struttura contabile, amministrativa e organizzativa, devi dimostrare di aver installato all'interno dell'azienda la balance scorecard. Attenzione che questo obbligo è come l'obbligo del bilancio. Non presenti il bilancio e fallisci, bancarotta fraudolenta. Non doti la tua azienda di un'adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile. Cioè non metti la balance scorecard all'interno della tua azienda e fallisci, fai bancarotta fraudolenta perché non hai operato per mettere questo strumento di controllo. Praticamente come la normativa dice, la razza della norma è che l'azienda è qualcosa di utile per la società, ma può diventare qualcosa di pericoloso. Quindi siccome l'imprenditore e il revisore gestiscono delle cose pericolose, lo Stato vuole cautelarsi e vuole sapere se questa macchina che sta sulla strada è guidata correttamente e ha i sistemi di controllo per evitare che faccia degli incidenti. L'unico strumento in Italia, il primo e unico strumento in Italia, che ha software, cloud, che misura il futuro dell'azienda, basato sulla balance scorecard è il cuscotto di controllo. L'ho creato io dieci anni fa, è basato tutto sulla balance scorecard di Capri e Norton e permette, qualora adottato in azienda, di stabilire se l'azienda ha la possibilità di rimanere in piedi nel futuro. Quindi possiamo vedere magari aziende sane da un punto di vista di indici di bilancio, ma che hanno delle criticità o sono carenti a livello strategico. Quindi se tu sei un amministratore o sei un commercialista e devi consigliare i tuoi colleghi o sei un revisore contabile, non puoi fare a meno per legge del cuscotto di controllo che è diventato legge. Quindi trova qui sotto tutte le informazioni sul cuscotto di controllo, che è il primo e unico software cloud, quindi non c'è bisogno di installarlo, basato sulla balance scorecard di Capri e Norton, che misura la performance aziendale, ma soprattutto misura il futuro delle otte aziende. Contattatemi e rimanete aggiornati. Un caro saluto e buon lavoro a tutti.